Guerino testa a Rotino, Luciano D'Alfonso Scalpellino, Licio di Biase e Remmagio, Walter Cozzi Pastore, Antonio Blasioli, San Giuseppe. No, non è che i politici hanno cambiato mestiere, più semplicemente parteciperanno alla prima edizione del presepe vivente itinerante in cui i protagonisti saranno non solo i politici ma anche alcuni giornalisti. L'evento si svolgerà domenica prossima nel Parco dei Gesuiti a Pescara, organizzato dalla parrocchia Cristo Re. Vogliamo cercare di dare un po' una sorta di continuità alle attività che normalmente iniziamo l'estate, un po' con alcune cose che qualcuno ricorderà, jazz, cultura più in generale, teatro. Insomma a questo punto ci è venuta questa idea, naturalmente supportati da una regista, tocca dirlo, perché se no sembrerebbe quasi tutto merito nostro, di Maria Antonietta Feruglio. che è già autrice di opere in vernacolo, quindi dirige un po' il gruppo I Giovani Amici del Teatro. E con lei abbiamo appunto immaginato di mettere in piedi questo presepe vivente nel Parco dei Gesuiti ed è un presepe itinerante. Gli attori sono però particolari? Beh certo, gli attori sono particolari, però ecco bisogna tenere conto che noi abbiamo unito ad un gruppo già esistente, appunto governati da Maria Antonietta Feruglio, ad altri amici che hanno avuto il piacere di mettersi in gioco, e lo dico con moltissimo piacere. Facciamo qualche nome. Ma qualche nome, io ho già visto qualche titolo su qualche quotidiano, dove leggo Testa e Luciano D'Alfonso, mestieranti del presepe, insomma. Ci sono nomi ai quali io devo dire grazie, perché hanno avuto il piacere di rispondere ad un nostro invito fatto un po' a tutti, nessuno escluso, poi alcuni hanno risposto, hanno avuto il piacere di rispondere e di mettersi in gioco, altri per il momento fanno da spettatori.